Massimiliano Ossini si racconta, dalla vita privata con la scelta della moglie di non abortire al successo in televisione e i suoi modelli Massimiliano Ossini, classe 1979, è uno dei volti di Mamma Rai più amati dal grande pubblico Qualche tempo fa, in un'intervista, aveva rivelato quello che era stato un suo dramma familiare, mia moglie aveva un tumore, i medici le consigliarono di abortire La donna aveva un tumore alla tiroide e le consigliarono di abortire, ma Laura Gabrielli, così si chiama la moglie del conduttore, d'accordo col marito si rifiutò La coppia ha ora due figlie, Carlotta, che oggi ha 13 anni, e Melissa, 12.Il racconto di Massimiliano Ossini, i suoi modelli televisivi Ma il conduttore, che oggi è stato ospite di Vieni da me, ha avuto anche modo di parlare, in alcune interviste, di quelli che sono i suoi modelli di televisione, cerco di fare una tv antica, nel senso di elegante I miei modelli sono Corrado, Frizi, Baudo, Buongiorno. Quella tv studiata, e mai improvvisata, come quella che si fa da Michele Guardi, per intenderci Cerco di entrare nelle case della gente con educazione. E di valorizzare buoni esempi Queste le sue parole al quotidiano Il Giornale, a cui aveva anche spiegato di essere molto legato al programma Linea Bianca, è scritto da me, quindi lo sento mio in modo particolare Ma anche uno mattina estate è stato stimolante, se me lo chiedessero, lo rifarei Vi dirò, ora mi piacebbe condurre un quiz di cultura. Chi ricorda il mio sei più bravo di un ragazzino di 5 gradi? Ecco, uno così Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like